Scandalo, perdono e fede sono queste tre luci derivate dal Vangelo di Luca che guidano la riflessione di Papa Francesco nella messa mattutina a casa Santa Marta. Si scandalizza soprattutto quando manca la testimonianza di fede perché la fede confessata, afferma il Papa, va vissuta. Gesù è diretto quando dice ai suoi discepoli che è meglio buttarsi con una pietra al collo che dare scandalo e quello che l'Apostolo Paolo afferma dei sacerdoti, che siano irreprensibili, pacifici, non attaccati ai soldi ma fedele alla parola data, vale secondo Francesco, per gli stessi cristiani. Lo scandalo distrugge e bisogna stare attenti proprio a noi stessi. Sul perdono il Papa ricorda che un cristiano che non è capace di perdonare non è cristiano. Dobbiamo perdonare perché perdonati, anche se questo non appartiene alla logica umana, che invece spinge alla vendetta, all'odio e alla divisione anche tra famiglie e tra genitori e figli. Sentendo allora questo si comprende perché i discepoli chiesero a Gesù di accrescere in loro la fede. E senza la fede non si può vivere, senza scandalizzare e sempre perdonare, soltanto alla luce della fede, di quella fede che noi abbiamo ricevuto, della fede di un padre misericordioso, di un figlio che ha dato la vita per noi, di uno spirito che è dentro di noi e ci aiuta a crescere. La fede nella Chiesa, la fede nel popolo di Dio, battessato, santo. E questo è un dono, la fede è un regalo. Nessuno con i libri, andando a conferenze può avere la fede. La fede è un regalo di Dio che ti viene. Per questo gli apostoli chiesero Gesù, che accresci in noi la fede.